Dopo giornate di diatribe politiche consumate fra comune e regione, si passa concretamente alla fase operativa. Il comune di Pesaro va dritto per la sua strada ed ormai ha gli ultimi dettagli organizzativi per apparecchiare in autonomia lo screening scuole sicure. Il 28-29 gennaio e il 2-3 febbraio saranno quattro giornate in quattro istituti superiori della città di Pesaro dedicati ai tamponi gratuiti e su base volontaria alla quale verranno sottoposti potenzialmente 8.500 studenti e oltre un migliaio di addetti al personale scolastico. Mila della Dora, assessore comunale con delega alla salute, sta coordinando gli ultimi dettagli organizzativi di un'operazione che non ha precedenti. Partiremo il 28, quattro saranno i siti individuati, il campus scolastico, il Santa Marta, il Cecchi e il Mengaroni. Lo screening parte il 28 per i ragazzi che rientreranno la prima settimana il 25 di gennaio e nella seconda settimana abbiamo ipotizzato le date del 2-3 febbraio per i ragazzi per l'altro 50% che rientrerà la settimana successiva. Sono tanti gli operatori volontari che abbiamo trovato, da medici, infermieri, quindi una grande squadra che coordinerà il tutto. Ovviamente, come avete già sentito, il Comune è promotore di questa iniziativa ma non sarà il titolare sanitario dei dati, quindi nessuna preoccupazione in questo senso. Faremo firmare un modulo di consenso da parte dei genitori, l'adesione sarà su base volontaria, quindi il ragazzo minorenne avrà anche l'autorizzazione del genitore, invece nel caso di maggiorenne comunque compilerà un'autodichiarazione lui. E si parte nonostante il Comune avesse auspicato che l'iniziativa fosse abbracciata dalla Regione Marche. È stato infatti un weekend di botte risposta fra il sindaco Matteo Ricci e l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Il primo cittadino ha accusato la Giunta regionale di non aver accolto una proposta semplicemente perché è arrivata dal centro-sinistra. Saltamartini ha invece intimato di non accampare strumentalizzazioni politiche di fronte ad un regolamento sanitario in capo alla Regione che non ammette il fai-da-te. Saremo costretti a fare da soli, faremo da soli con le nostre forze, con le nostre risorse, sostituendoci alla Regione. È un'iniziativa che doveva fare la Regione, la poteva fare. La Regione, grazie alla bella iniziativa dello screening gratuito, ha almeno 600.000 tamponi in questo momento inutilizzati e le Marche potevano diventare la Regione più sicura per il rientro scolastico perché questi tamponi potevano essere effettuati anche periodicamente dando davvero maggiori garanzie della sicurezza all'interno della scuola. Non lo si è voluto fare, probabilmente perché la proposta arrivava da una parte politica non uguale a quella della Giunta regionale e questo è già un grande errore perché la campagna elettorale è finita e bisogna lavorare insieme. Dall'altra, poi noi abbiamo proposto di mettere a disposizione il personale, fino all'ultimo c'è stato detto che i tamponi ci sarebbero stati dati e poi ci si è inventati una motivazione burocratica che non sta nei piedi né in terra e ci è stato detto di no. Noi andremo avanti comunque, poi abbiamo scoperto che ad altre realtà i tamponi sono stati dati quindi davvero una brutta vicenda, spero che la Regione capisca di aver fatto un errore che torni sui suoi passi e che capisca che questi interventi li deve fare la Regione e li deve fare in tutte le Marche. I tamponi li abbiamo acquistati attraverso le farmacie comunali e sono fra l'altro i stessi tamponi che sta usando l'Emilia-Romagna per lo screening quindi è una cosa paradossale, abbiamo dovuto spendere 36 mila euro nei tamponi mentre ce ne sono 600 mila della Regione chiusi in un magazzino. Solo questo dà la dimostrazione di come si dovrebbe collaborare perché ripeto tra 5 anni torneremo a fare campagna elettorale ma per 5 anni dobbiamo lavorare insieme nell'interesse dei pesaresi e dei marchigiani così si lavora, questo è lo spirito con il quale io mi sono mosso mi dispiace anche perché ho un buon rapporto con l'assessore alla sanità ma poi alla fine in politica contano i fatti, le parole contano poco. Il fatto è che siamo costretti a farlo da soli ed è grave perché stiamo parlando di sicurezza sanitaria e stiamo parlando di scuola, dei nostri ragazzi quindi davvero un attesamento incomprensibile.